Ciao, come stai? Sono cose felice d'verti? Voleo confessarti. Oggi, quindi, ascolta attentamente. Ti amo. Sorpresa? Ma è vero. Perché tu sei molto importante per me. Sei una persona molto brillante, buona e gentile. Quindi voglio che tu provi il mio amore. Mi piccamberai? Mi amerai di nuovo? Comunque, volevo vederti come una persona felice. Direi che tu stai bene. Alla vederti. Mi mancava e volevo vederti.